McDonald's scende in campo contro l'abbandono di rifiuti e anche a Salerno promuove le giornate insieme a te per l'ambiente. Domani a partire dalle 10 i dipendenti dei ristoranti di Via Roma e Mercatello saranno coinvolti nella pulizia del lungomare Trieste e di Via Filippo Smaldone. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune e con la società Salerno Pulita. Noi intendiamo sensibilizzare tutti quante le persone che ci frequentano e conoscono la nostra attitudine ambientalista a fare attenzione a preservare i nostri territori. Il discorso riguarda per Salerno poi la spiaggia di Santa Teresa e l'area di Mercatello. Domani si riuniranno i nostri operatori di sistema più gli amici e le amiche che vorranno partecipare e in quest'ottica cercheremo di dare un segnale. Il progetto che sarà realizzato in 100 città italiane si inserisce in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald's ha intrapreso da diversi anni nei suoi ristoranti e che trova la condivisione anche da parte della regione Campania. McDonald's fa una cosa ancora più importante di livello culturale che riguarda il fenomeno del littering e il rilascio di rifiuti nell'ambiente che è una cosa che viene sottovalutata ma che poi produce quello che sappiamo nel mare, nel sistema in generale.